Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo Trattor Vlog del canale. Quest'oggi facciamo manutenzione straordinaria a questa motosega, è una Steel MS250. Appunto mi trovo qua in officina e non porto nessun video in esterna perché continua a piovere, in campagna non si può fare praticamente nulla, quindi quale migliore occasione per mettersi in officina durante la pioggia a sistemare le proprie attrezzature. Allora quest'oggi la motosega ha un problema di pompa dell'olio, la pompa dell'olio pompa poco o a volte non pompa più, quindi appunto sono andato un attimo a pensarci su e la causa è o la pompa o la chiocciola appunto della pompa stessa. Io vado a cambiare tutti e due perché comunque la chiocciola sarà sicuramente usurata e prendo l'occasione per sostituire la pompa che è questo piccolo pezzettino qua per appunto andare a mettere su una cilindrata, per andare a montare una cilindrata maggiorata in modo da avere più portata, che sulla legna secca serve soprattutto su questa macchina che non ha la portata variabile e anche una portata abbastanza ridotta. Allora, dovrebbe essere abbastanza semplice, non l'ho mai fatto, però comunque un po' di basi meccaniche sull'aprire una motosega le ho e adesso andremo passo a passo a sistemare questa motosega. con calma, anche voi se lo volete fare perché tanti succede, tanti cercano anche dei tutorial, l'ho visto, se lo volete farlo andate con calma, guardate tutti i punti, tutte le viti, non fate danni ecco. Anche noi andremo con calma, guardando bene, senza arrecare problematiche alla macchina stessa. Io voglio sapere se questa serie vi piace, fatemelo sapere con un commento, se questi video di manutenzione vi piacciono, io continuo a portarli perché ho un po' il pubblico diviso 3, quelli a cui piacciono i trattori, quelli a cui piacciono le manutenzioni e quelli a cui piace il settore boschivo quando vado a improvvisarmi boscaiolo appunto, come mi hanno detto certi. Detto questo, io direi di partire subito con la manutenzione. Bene, prima di tutto andiamo ad agire qua sulla campana, ci servirà un cacciavite da inserire qui, nel seiger appunto, basta inserirlo, fare un po' di leva e dovrebbe venire, eccolo qua. Lo prendiamo e lo mettiamo in una vaschetta pulita, appunto mi sono preparato una vaschetta pulita con un po' di carta assorbente in modo tale da raccogliere tutti i pezzi e non perderli. Andiamo a togliere questa rondella, mi sono dimenticato di dirvi che in questo video ci sono due inquadrature, voglio provare così qualcosa di nuovo, qualcosa di un po' più dinamico, ne una addosso a me e una appunto che inquadra sempre il lavoro in modo da non perdere nessun dettaglio. Poi la campana dovrebbe venire giù appunto senza problemi, è sporca, bisogna pulirla, quindi questa non la vado a mettere dentro alla vaschetta e poi qua c'è una piccola gabbia rulli, state attenti a non farla cadere e mi raccomando è molto delicata, quindi dopo si può mettere anche un filo di grasso. Allora, qua cosa si deve andare a fare? Ovviamente potete vedere che se io vado a cercare di svitare la frizione, gira appunto perché è collegata all'albero motore, quindi devo andare a staccare il coperchio che appunto basta svitare questa vite e mandare giù la leva appunto delle posizioni dell'aria. Dopo si toglie questa piccola protezione in plastica, la gomma della candela la si mette qui di lato e si va appunto a svitare la candela con la chiave della candela. La inseriamo dentro, ecco facciamo un po' di forza e dovrebbe essere svitato con un giro, dovrebbe venire giù dopo a mano, ecco qua. A posto mettiamo via anche questa, ecco una volta fatto questo veniamo al famoso pezzettino di corda. Io pensavo di poter utilizzare la pistola avvitatrice ad aria o comunque un avvitatore impulsi, penso si possa utilizzare, però vedo tutti i meccanici stile non che in questa procedura preferiscono inserire un pezzo di corda in modo da bloccare il cilindro e quindi lo faccio anch'io, non vorrei arrecare danni dato che appunto è la prima volta che lo faccio. Alt, alt ragazzi, fermi tutti un attimo. Io appunto ho detto, ma perché non svitare e arvitare appunto la frizione con la pistola ad impulsi? Ad impulsi, comunque pistola ad aria avvitatrice. Ecco ragazzi, non fatelo, io ho spaccato tutto, io ho spaccato, spaccato tutto. Ho spaccato questa, praticamente questa qua ragazzi è applicata qua, che è nella parte opposta da dove c'è la frizione, dall'altra parte dell'albero motore esce la frizione, qua esce la ventola. E qual è il problema? Che hanno fatto appunto il piccolo pezzettino che va ad agganciare, dovrebbe vedersi, se vedete qua c'è un piccolo linguetta, che si chiedete anche chiavella, spina, come volete, che praticamente va a fermarsi sull'albero per non farla girare a vuoto. No ragazzi? Ecco, l'ho rotta, perché l'hanno fatta non in acciaio, l'hanno fatta in una fusione unica d'alluminio, anche la chiavella è in una fusione d'alluminio e quindi andando a, con i battiti laterali della pistola ad impulsi avvitatrice, si è spaccata. Quindi avvitando di là si è spaccata di qua. Non fatelo ragazzi, io adesso appunto, sbagliando si impara ragazzi, è inutile e soprattutto ragazzi non fate quello che ho fatto io, perché io ho smontato e anche rimontato con la pistola stupidamente, non fatelo. Quindi quando dovete smontare questi particolari della motosega utilizzate o un pezzettino di corda o un blocco a pistone, io l'ho preso in questo caso originale, va inserito nel pistone. Ragazzi per inserirlo nel modo corretto basta appunto aprire il carter, svitare la candela, guardare dentro con una pila, far girare l'albero motore fino a quando il motore arriva, il pistone arriva su, nella parte alta, nel cello del cilindro, ma andare un attimo indietro o appena appena avanti in modo tale che scenda un pochino, si inserisce all'interno il fermapistone e lì si può svitare. Ragazzi non fate come ho fatto io, che mi serva da lezione e che soprattutto, ragazzi non spaccate le robe, ormai le ho già spaccate io per voi e chiuso il discorso. Ho visto dei video in cui lo utilizzavano e non riuscivo a capire perché, anche manuali della steel e così via, e adesso l'ho capito ragazzi, per capire le cose, cioè più bello che capirle così, insomma più bello. 40 euro di ventolino, ventolino ragazzi che poi fa anche la funzione di magnete, appunto questo qua gira, questo qua è il rotore diciamo, o il volano magnetico e gira sullo statore che è questo qua e fa fare la scintilla. Niente ragazzi, torniamo al video, non sarà molto parlato, ci saranno parti velocizzate, ma alla fine faremo una bella prova della motosega. C'è dello sporco, dobbiamo sgrassare e pulire tutti i pezzi. Qua c'è un piccolo parapolvere che ha su una scritta che adesso non si vede, però ci dovrebbe essere scritto top per indicarci la parte dove andarla a posizionare. Non so se si veda, non so se si vedeva. Ecco, si dovrebbe vedere in teoria. Provate a guardare che sporco, mamma mia. E qua c'è la famosa, appunto, chiocciola in teflon, che dopo andremo a vedere come è messa. Mamma mia, sporchissimo. Bene, ho pulito, si vede già molto meglio e penso che, appunto come ho detto prima, anzi, penso che la causa sia stata appunto questo. Ho usato un olio biologico di alta qualità, di marca, non farò nomi, però vi dico che bastava lasciare lì la motosega 15 giorni, barra un mese e addirittura si asciugava l'olio, rimaneva tutta l'incrostazione del sedimento dell'olio sopra la barra, rimaneva agganciata la barra dentro la sede, la catena dentro la sede della barra. Qua ho paura, appunto, che la pompa abbia fatto la stessa fine, ovvero si è bloccata e ha sforzato sopra la chiocciola che vedo che è leggermente, leggermente usurata. Anche però, non so, non mi sembra però usurata tanto da dire che si è distrutta, che non riesco a più fare il suo lavoro. Io la pompa andrò a sostituirla comunque, penso che per sicurezza andrò a pulire anche il filtro del serbatoio, che vi ricordo che ho svuotato per fare questa manutenzione, perché sennò dopo quando andiamo a tirare fuori la pompa esce tutto l'olio, però penso appunto che questo ingranaggino che c'è lì si sia bloccato. Adesso andiamo a vedere meglio e oltretutto dopo sia i pezzi che la motosega va pulita molto meglio. Allora, prossima cosa che andiamo a fare è, a parte rimontare la candela subito, perché non voglio che ci sia, che entri appunto dello sporco nel cilindro, andiamo a smontare il manico con questa Torx che era in dotazione e al massimo comunque mi sembra che sia un Torx 27, ecco comunque dovrebbe venire giù abbastanza bene. Di viti ce ne sono tante per questo manico, il manico dobbiamo smontarlo per andare a accedere al fondo della pompa, dove c'è il raccordo dove aspira l'olio, tutte le viti ce le teniamo, poi c'è una vite qua sotto, anzi due, spero si veda, andiamo a smontarla. Ok, non sono dure per fortuna. Abbiamo rimosso tutti i tappi, tutte le vite Torx che tenevano fermi i manici, allora ce ne sono una qua e una qua. Una volta aver rimosso con due cacciaviti su questi scansi i tappi, dentro trovate le viti appunto da andare a svitare. Poi ce n'è una sotto qua, togliendo il guida catena in nylon, trovate un altro tappo con un'altra vite. Dopo ce ne sono due sotto qua al manico, in questa posizione circa, e una dall'altra parte opposta, no scusate, da questa parte qua, questa qua piccola. Adesso sono tutte svitate, il manico dovrebbe venire via senza troppi problemi. Perfetto, manico totalmente rimosso. Sfiliamo le viti, dopo, prima di rimontare ragazzi dovrete dare una controllata a tutti i tamponi che non siano usciti, per esempio a me questo è uscito un po'. Mettiamo il manico da parte e abbiamo la motosega pronta per essere smontata nella parte della pompa. Allora, bisogna ribaltarla, ok perfetto, macchina sotto sopra, bisogna andare a pulire questa parte qua un pochino in modo che non entri lo sporco, ed è proprio questa parte su cui dobbiamo agire per smontare la pompa. Quello lì, che vedete, questo pezzettino in plastica con la vite, ha un piccolo raccordo che collega il serbatoio dell'olio, della catena, appunto la, come si dice, alla pompa. Quindi, va svitato sempre con la solita torx, la macchina ha solo questa torx, appunto, sempre una torx 27, se non sbaglio si chiama così, e questa è la sua misura. Ecco, una volta svitata la vite, la si mette da parte per non sbagliarsi, il raccordo dovrebbe venire su facendo un po' di forza. Puliamo un po' meglio, ok, e qua dovrebbe venire su pian pianino, ecco, si sentirà un po' di sfiato, ecco, è venuto su, e qua si può, ecco, stappare. Stappare da dove? Da un piccolo tubettino che va a prendere, che era attaccato al raccordo, che va a prendere l'olio. Qua c'è anche attaccato il filtro, da qua si può sfilare il tubo per cambiarlo o per agire, appunto, sul filtro per pulirlo. Penso che dopo farò anche questo. Allora, il raccordino lo mettiamo qua, e qua c'è la vite, la vite, la pompa, ragazzi. Per andare a togliere la pompa è molto semplice, basta prendere una vite M5, appunto del 5, e andare a avvitare il fondo della pompa con cautela, al fondo della pompa, che è filettato, e in teoria senza troppi problemi dovrebbe venire su. Ecco, abbiamo quasi fatto, era un po' bloccata, ho visto che c'è della pasta siliconica sigillante, e mi sono aiutato con una pinza. Mi raccomando, prendete la vite e tirate in asse, sullo stesso piano. Ecco, la pompa è venuta fuori. Una pompa che funziona, sinceramente il funzionamento preciso non lo so, però questo qua gira su quella chiocciola in teflon, e quando gira c'è una piccola fase che la manda su e giù. Questo andare su e giù gli permette di pompare l'olio. Allora, qua gli si dà una pulita con un po' di carta, con uno straccio, in modo tale che si può andare a agire per la pulizia di tutta la macchina. Perfetto, la pompa è questa qua. Io la metto da parte, qua, perché dopo nel rimontaggio bisognerà andare a fare dei segni sopra la pompa per allinearla con la fase, con un piccolo scanso che c'è in fondo al buco. Io adesso do una bella pulita alla macchina, in modo che non ci siano corpi estranei, sporco, dentro nella campana e nella pompa. Una volta fatto, andiamo, ci rivediamo appunto con il rimontaggio e con i saluti. Io la parte del rimontaggio ve la velocizzerò un po', perché è molto semplice, vi darò alcuni dettagli, magari anche visivi, a video, con delle scritte, in modo che così chiudiamo velocemente. E magari facciamo anche un test. Grazie. Grazie. Ottimo, ho montato tutto, finalmente ho finito con questa motosega. La rottura della ventola, insomma, del volano magnete mi ha permesso di pulirla bene all'interno. E niente, quindi adesso io ho già effettuato una prova della pompa per spurgare l'aria senza la barra montata. È molto importante farlo quando si sostituiscono queste componenti. Adesso vado a fare con voi, su un piccolo cartoncino molto molto semplice, una prova per vedere se fuoriesce olio correttamente con la catena montata. E dopo direi che ci possiamo salutare. Bene, allora abbiamo visto che funziona, abbiamo verificato sul cartoncino, la linea appunto qua in mezzo ci verifica che la lubrificazione è corretta, insomma la pompa, pompa olio, abbiamo fatto un buon lavoro. Anche le gocce che appunto sono presenti qua sotto ce lo possono verificare. Appunto si dicono che la pompa funziona. Adesso è a portata maggiorata, quindi dovrebbe lubrificare molto meglio. Adesso bisogna solo dargli una bella filata e andarla a provare per avere la prova finale e più concreta possibile. Detto questo, lo so che il video è stato un po' lungo, vi ringrazio veramente tanto per la visione. Se volete supportare il canale o seguirmi su Instagram trovate tutti i link in descrizione, trovate sempre un sacco di informazioni nella descrizione, leggetela sempre. Detto questo, non mi resta che salutarvi e ci vediamo nel prossimo Trattor Vlog.